Si trova in prognosi riservata il bambino di 9 anni che sabato scorso, 4 marzo, alle 19 circa è stato investito in via Garibaldi, nel centro di Villa Rosa, in provincia di Enna. Il bambino sarebbe stato investito da un giovane alla guida di una Fiat Bravo che si è fermato a prestare soccorso. Le condizioni del piccolo sono subito apparse gravi, così è stato trasportato in elisoccorso in un ospedale di Catania, mentre sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri. Saranno i militari a cercare di fare ulteriore chiarezza sul tragico episodio e ricostruire la dinamica esatta del sinistro. Intanto il ragazzo è stato sottoposto ai controlli per stabilire se fosse sotto l'effetto di alcol o di droga.